No, io credo che sul Movimento 5 Stelle si abbatta la legge del contrapasso. Hanno per anni denunciato la poca trasparenza, i legami con ambienti poco chiari da parte degli altri partiti politici, loro erano più diversi rispetto agli altri, loro erano quelli che potevano issare la bandierina della legalità, della trasparenza, dell'immunità rispetto a vicende tristi e dolorose come queste e oggi pagano pegno, pagano dazio. È evidente, c'è un imbarazzo clamoroso. Credo che sia scontato dire che il Movimento 5 Stelle a quarto vince anche, non solo, ma anche con i voti della criminalità organizzata. Il consigliere comunale che prende 800 voti sedendosi a tavolino e scambiando il voto con un favore, questo è lo scambio elettorale politico mafioso, si abbatte anche sul partito di Grillo.